Pronto? Adesso iniziamo qualcosa Eccoci qua, pronti per una sciata Qua c'è Alice sciatrice Sei pronta Alice? No Pensavo fossi nata pronta Ah no? E dove siamo qua? Al Lignano Ah, sei pronta a sciare? Sì, primo marzo Primo marzo 2018, una nevicata pronti per fare una sciata qua a Lignano Secondo te Roby, come sarà il proseguo della giornata? Nevicherà? Scensura Dovrebbe fare un bel 20 cm stasera Quindi troveremo qualche bella duna per fare due discese Nel frattempo Io farei un paio di sciata qua nel giardino dell'agenzia Che ne dite? Facciamo riscaldamento Ah giusto, prima riscaldamento Prima mettiamo giù gli sciati, vieni A presto mi A presto mi Oh Ti lascio io Oh Allora, come facciamo di solito il riscaldamento? Mettiamo giù gli sci, rompi A presto 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 Fuori A presto Fuori Un po' freddino eh poi l'altra gama ok ok e adesso un buon momento poi cominciamo a provare avanti e dietro è difficile ok pronti che sciamo? no allora pronti così? come stava la braccia? non si scia così non è arrivata prima vediamo se si sciano lì è difficile però si potrebbe fare una una discesa come la facciamo lì? come facciamo la scena? ecco ecco tu che sei esperto dell'uscita da fondo come si fa? da fondo? si lo stai diciuscendo in effetti questa è una bella manca lo scivico però eh lo lascio già via Alice attenti di non cadere così guardate vediamo halilineone sotto neve vediamo stile classico Perfetto stile lupionico. Vediamo lì adesso. Vediamo se è così. Così si va, brava. Allora un saluto da Lignano. Ci vediamo quest'estate magari a fare un po' di sci. Con il sole. Si, con il sole e un po' di sci nautico in costume. Che sarebbe meglio. Hai fatto una ripresa della location dove siamo noi. Aspetta che ci mettiamo qua in posizione. Alice, vieni un attimo che facciamo. Adesso tiriamo su tutta la gamba a destra. Così facciamo una bella foto. Qua è in mezzo, qua è in mezzo. Ecco, adesso tiriamo su la gamba a destra. Quale è la destra? No. Whisky! Spaghetti!